Grazie a tutti voi, grazie a Giorgio per questo invito, sono un po' in affanno anche perché praticamente nel mio viaggio dal Brasile sono andate smarite le mie due valigie, quindi ho dovuto riacquistare tutto l'abbigliamento, quindi mi trovo anche in una veste abbastanza insolita, proprio una veste fisica da questo punto di vista. Allora parliamo della S-adenosilmetionina, molti di voi o pochi non so mi conosceranno come uno studioso dello stress ossidativo e per molti anni sono, e ho anche proposto a molti di voi un modello di stress ossidativo legato ad un antagonismo, il classico Niang, i buoni in qualche modo gli antiossidanti e i cattivi chiaramente gli ossidanti e quindi ho fatto tutto, ho costruito tutta questa mia teoria sul fatto che ovviamente questo sistema regola una serie di funzioni anche di tipo genetica e epigenetica e poi ovviamente come capita in tutti i sistemi biologici sono andati in crisi, quando davanti ad un tempio giapponese ho visto un simbolo molto strano che era la stessa immagine dello Yin-Yan, però con tre virgole praticamente, e mi hanno spiegato che questo si chiama il Mit Sudomoe, che significa qualche cosa come la Trinità. Questo mi ha sconvolto mi ha indotto a pensare che forse avevo dimenticato una parte, perché l'ossesso ossidativo è un menage a trois, non sono solamente gli ossidanti e gli antiossidanti, ma il vero punto sono i bersagli biologici. Quindi come funziona il sistema rivisitato alla luce del Mit Sudomoe? Noi produciamo specie reattive dell'ossigeno eccetera. Qual è il ruolo primario? È ossidare un bersaglio biologico, è la cosa che ci mancava. Perché ossidandolo, togliendo un elettrone, io posso attivare o spegnere un meccanismo di segnalazione o di difesa. Dopodiché entrano i riducenti, che non sono gli antiossidanti, i quali restituiscono l'elettrone a quel bersaglio facendo tornare come prima. Questo è il ruolo degli antiossidanti, non fare la lotta contro i radicali liberi. Dopodiché può capitare che c'è un eccesso di specie reattive ossidanti, ci potrebbe essere un fuoco amico e una parte dei nostri riducenti sono destinati ai nostri radicali liberi in eccesso. La leggenda di Guglielmo Telli aiuta a capire in qualche modo che Guglielmo Telli è il nostro sistema biologico, il sistema redox. La freccia è l'enzima che in genere produce i radicali liberi. La freccia è proprio la specie reattive ossidante che è destinata ad un bersaglio che è la mela. Io la devo colpire quella mela perché significa premere un grilletto o mandare un messaggio, cioè segnalazione o difesa. Gli antiossidanti non è che contrastano i radicali liberi, anzi li aiutano a raggiungere con sicurezza l'obiettivo. Quindi quando tutto è fatto, la mela è colpita e salvo sia Guglielmo Telli che il figlio, ritiro la freccia dalla mela e la posso mangiare tranquillamente. Ma se il sistema non funziona, quella freccia, perché entra un moscerino nell'occhio del nostro Guglielmo Telli, oppure perché una folata di vento devia la traiettoria, la freccia andrà fuori posto perché il sistema riducendo l'antiossidante non ha funzionato. Ed è questo il distresso ossidativo. Quindi esiste un eostress ossidativo che è benefico e un distresso ossidativo che è completamente pericoloso. Questo sistema riducosto insieme ma ubiquo, antichissimo, il sistema di adattamento più antico che esista. Dai batteri ai primati e all'uomo. Questo sistema è l'anello di conciunzione tra il nostro intestino e il nostro corpo, tra il microbiota e l'intestino, tra il microbiota e il cervello. Chi tiene su le regole di questa relazione è esattamente il sistema RETOC. Per esempio l'acqua ossigenata è prodotta da l'attobacilli. I lattobacilli producono l'acqua ossigenata, una specie reate, per ammazzare e battere i patogeni. Ma la stessa acqua ossigenata entra nella mucosa dell'epitelio, quindi nell'epitelio della mucosa dell'intestino, attiva il sistema NRF2. Le nostre cellule producono antiossidanti e sostanze detossificanti. E' un sistema, vedete, per ossidodisogene è comune a sistemi biologici completamente differenti. Il sistema antiossidante in particolar modo è ben distribuito dentro e fuori le nostre cellule. E una parte molto importante del sistema antiossidante sta nel sangue. Quale più importante antiossidante intracellulare, attenzione, è il glutatione. Deve essere 1-2 millimoli per litro. Quando state sotto questo livello già cominciate a fare apropotosi. Quindi dobbiamo mantenere il livello degli antiossidanti, soprattutto tiolici, intra- ed extracellulari. Pensate che il livello di tioli nel plasma si quantifica 450-650 micromoli per litro. Più basso è, vedete, questi studi, studi condotti su migliaia di persone, dimostrano come un più basso livello di tioli è predittivo di cancro sia della prostata sia del polmone. Parliamo di realtà enormi. E in questa storia, diciamo, che comincia a tirare in mezzo sempre più lo zolfo, vi ricordo che ossigeno e zolfo sono fratelli stretti. Lo zolfo ha un livello semplicemente di elettroni più rispetto all'ossigeno, ma la struttura è lo stesso. Lo zolfo è solo un po' più cicciottello rispetto all'atomo di ossigeno. E ciò che è cambiato nel corso dell'evoluzione, sto entrando nel meccanismo di parlare dell'ozolfo, perché la metionina, l'esta della metionina, è una moleca che contiene uno zolfo in una forma particolare. Ciò che è cambiato nel corso dell'evoluzione, se dice che cosa realmente ha modificato il nostro biomo, sono due cose. L'aumento della concentrazione di ossigeno nell'atmosfera e l'aumento del contenuto di cisteina nel nostro proteoma. Ci siamo evoluti, guarda caso, arricchendoci in ossigeno, ma generando molte proteine ricche in cisteina, che hanno dei tioli e altre sostanze simili. Lo zolfo, vedete, lo zolfo segnala, lo zolfo inserito in una molecola è il recettore, è il sensore del perossido di idrogeno. La cisteina è il perossido, il recettore in qualche modo, appunto di vista diciamo concettuale, del perossido di idrogeno. Quindi le specie ossidanti agiscono, ossidanti i gruppi tiolici. È un meccanismo semplice, basato negli elettroni. Quando al posto dello zolfo è entrato l'ossigeno, dalla cisteina siamo parlati alla serina. Oggi la serina è il meccanismo target delle famose chinasi, quindi regoliamo altri processi biologici attaccando il gruppo triostile, ma lo facciamo sfruttando l'ATP, un sistema che costa molto di più. Quindi già da questo si capisce come il sistema Redox è antecedente ai sistemi di modulazione di segnale e anche al sistema di regolazione infiammatorio. Per cui se teniamo sotto conto il sistema Redox abbiamo la possibilità di controllare anche tutto ciò, le cascate di segnali che vengono dopo. Questo impiegherebbe tempo, ma ci dice che effettivamente il sistema Redox, il sistema ubiquitario che è giunto in congiunzione con i batteri del nostro intestino, modula delle meccanismi di segnale e di difesa che agiscono profondamente a livello genetico ed epigenetico. Quindi Eostress è la risposta adattativa di stress, significa malattia. Vedete quante molecole lo zolfo come è rappresentato? Da molecole inorganiche come il solfuro di troggiano, dalla cisteina, la cistina, che è il punto chiave del meccanismo di funzionamento delle whey protein. Le migliori whey protein sono quelle di cammello. La n-cetilcisteina, che non è solo un farmaco, non è solo, ma è una sostanza perfettamente naturale che si trova in molte specie vegetali. E poi il glutatione e l'acido lipoico. In questa famiglia di molecole che si sono arricchite di zolfo c'è la metionina. Vedete questa catena che alla fine ha questa particolarità, un gruppo metilico particolare legato a una forma ancora più particolare dello zolfo. Quindi forse probabilmente prima c'era la metionina, poi è venuto l'ATP ed era inesorabile che scattasse questa attrazione fatale, perché quel gruppo chimico particolare può reagire molto facilmente con la parte che voi vedete qui della molecola, il residuo del gruppo 5 del ribosio dell'adenosina. Quindi quando si creano queste condizioni noi attiviamo un enzimo chiamato metionina adenosiltrasferasi, la MAT, che è oggetto di tantissimi studi oggi, che converte praticamente, rilasciando i fosfati, converte la nostra metionina in una forma estremamente attiva che è la S-adenosilmetionina, la molecola di oggi. La S-adenosilmetionina osame ha una struttura chimica tridimensionale molto particolare, ha questa parte adenosinica che consente ad essa di svolgere anche delle funzioni di tipo recettoriale. In nuce abbiamo un attivatore recettoriale, ma poi abbiamo una catena. E oggi la cosa molto bella che conoscerete, ma che rinnoviamo, è la possibilità di introsporre questa molecola in una forma sublinguale. E sta nella formulazione insieme a Selfood, che è un nutraceutico estremamente sinergico, che può praticamente sfruttare l'azione del Selfood base con l'azione deutrosulfazime, nella storia, la formula di Everett storico, la S-adenosilmetionina. La funzione di questa sinergia, la S-adenosilmetionina sinergia con il deutrosulfazime nella modulazione dello stesso ossidativo, nell'ottimizzazione delle membrane cellulari e nell'attivazione delle reazioni di disintossicazione. Quindi un'azione multipla, sistemica, a livello dell'intestino, a livello del cervello, a livello del fegato. E' questa cosa molto importante che è una forma molto stabile, perché il problema della SAM che si vende, la maggioranza, è la sensibilità al pH. Quindi quando va nell'intestino in un ambiente alcalino, si riduce la sua capacità di donare i metili, diventa molto inestabile. La dovremmo tenere nello stomaco, visto che il pH di Selfood è molto basso, questo consente di tenere una stabilità. E' una questione di farmacocinetica. Quindi questa forma biodisponibile sublinguale significa raggiungere direttamente la circolazione sanguigna e quindi soprattutto il sistema nervoso, che è un grande consumatore. Quindi la stabilità e c'è ovviamente un'utilità clinica, su cui ritorneremo, nelle sindrome detrogressive, nei disturbi dell'omore, nella cefalea, nelle manifestazioni infiammatorie dell'orose delle ossa, delle articolazioni. Sentirete parlare di fibromialgia, di osteopenia. E' anche molto importante nel controllo dell'ossesso ossidativo e anche nel trattamento dell'intossicazione, come abbiamo visto poco fa. Molto semplice l'uso, 4-8 gocce 3 volte al D, considerando che ogni goccia sono 3 mg di principio attivo effettivo che stanno in sangue. Quindi è una differenza notevole, considerando la biodisponibilità per osso delle classiche compresse. Il rischio praticamente è minimo, questo è il dosaggio sufficiente e quindi potete per un mese usufruire di questi vantaggi. Come funziona l'esternatisilmetionina? Beh, ci vorrebbero veramente settimane, perché l'esternatisilmetionina che vedete lì, quella freccina piccolina piccolina da quelle parti, in quel cerchietto, non è altro che un pezzetto di un puzzle che ogni settimana si arricchisce. Quindi abbiamo diversi metabolismo, effettivamente ne tratteremo solo alcuni. Ma qual è la caratteristica dell'esternatisilmetionina? Costruiamo questa molecola per capirla nel suo ruolo struttura, funzioni. La molecola ha tre parti, ha questo residuo che vedete si chiama residuo amminopropilico, perché generalmente la gente sa che l'esternatisilmetionina è importante perché è un donatore di metilio. Ok, abbiamo detto un terzo delle potenzialità della molecola, perché può donare questa parte che è un residuo amminopropilico, può una volta liberatosi tutto diventare adenosina. Quindi sono tre parti della molecola, è come il maiale di una volta, non si butta nulla praticamente, persino le setole ci facciamo le spazzole. E questo è esattamente quello che facciamo noi con la S-adenosilmetionina. La S-adenosilmetionina, la prima cosa, può donare questa catena che si chiama amminopropilico, ma non lo può fare direttamente. Qui abbiamo bisogno di un enzima, una decarboxilase che è vitamina B6 dipendente. Questa adenosina perde il gruppo carbossilico e diventa il nostro vero, la vera molecola attiva, la S-adenosilmetionina amina. È l'intermedio nato dalla SAME che può dare questo gruppo amminopropilico. segnalo, anche il termine tecnico, questa decarboxilazione genera il diossido di carbonio, che non è la molecola brutta e cattiva che conosciamo. Chi dove non ha fatto la carbossiterapia, non ha fatto il bagno con il diossido di carbonio, è una molecola segnale, che tiene delle funzioni estremamente importanti, soprattutto nel regolare il rilascio dell'ossigeno e dell'emoglobino. Su questo si basa la carbossiterapia, anche la terapia termale. Quindi occhio ai mediatori gassosi che sono il futuro della nostra nutraceutica. Io ho conegnato il termine di gas ceutici, nutraceutici che sopportano la funzione di gas biologici. E a questo punto la nostra S-adenosilmetionina amina che può donare il suo gruppo amminopropilico e genera quindi due parti. La molecola si spezza, vedete, da una parte la molecola che ha accettato l'amminopropile e parleremo di poliammine. Il resto lo scheletro della molecola che si chiama metiltioadenosina. Un po' di pazienza però ve l'ho scomposta proprio a pillole. La metiltioadenosina, signore, è una delle molecole estremamente importanti oggi che entrano nel controllo delle cellule tumorali. Che fa questa molecola? Grazie ad una fosforilase, praticamente può essere spaccata in due e voi avete da una parte la metionina che viene recuperata e dall'altra l'adenosina. Quando parlo di adenosina parlo di recettori adenosinici. Parliamo di tutto un altro capitolo della farmacologia, di farmaci che utilizziamo continuamente o di molecole che controllano il signaling nervoso, il metabolismo cellulare. Sono i pezzi che rimangono e che utilizziamo fino alla fine. La 5-metiltiadenosina, questa molecola derivata, oggi è studiata perché l'inibizione della metiltiadenosina è un problema molto grave perché quando c'è questa molecola, quindi quando abbiamo estradenosine metionina, abbiamo più questa molecola, abbiamo maggiore possibilità di suppressione tumorale. Questi sono gli ultimi dati della ricerca scientifica. Ma esiste anche a chi va a donare l'estradenosine metionina, a chi dona il gruppo amminopropilico, lo può dare alla spermidina, lo può dare ad una serie di molecole e così che praticamente ci troviamo che l'estradenosine metionina entra in un altro ciclo biologico che è il ciclo dell'urea che utilizziamo per eliminare l'ammoniaco in una forma non tossica. Questo è legato a sua volta al metabolismo dell'ossido nitrico e al metabolismo delle poliammine. Quindi l'estradenosine metionina è importante per la funzione dell'ossido nitrico, la molecola endotelio protettore per eccellenza, su cui c'è stato un premio nobile con quel piacere di aver collaborato in un periodo limitato di tempo. Le poliammine perché sono importanti? La più importante è la spermidina. La spermidina sta nel cibo fermentato, sta nel natto, sta nel nostro parmigiano, nel gorgonzola, nei semi integrali. È estremamente importante perché fa una cosa che molte molecole non sanno fare, ma che impara a farlo con la metionina, che è l'autofagia, attiva l'autofagia, il processo di eliminazione della nostra spazzatura interna. Invecchiamo perché accumuliamo immondizia cellulare. Quindi il processo dell'autofagia che è valso un premio nobel, questo Yoshinori Otsumi sette anni fa ha avuto il premio nobel per scoperto l'autofagia. Mitofagia, eliminiamo i mitocontri vecchi e danneggiati. Lo facciamo grazie alla spermidina. La spermidina è un attivatore epigenetico, impedisce l'accedilazione degli stoni, lavora in sinergia con la restrizione calorica, lavora in sinergia anche con l'attività fisica. E la spermidina, quindi, e vi ricordo che un modello, un campione di invecchiamento di successo, l'eterocephalus glabber, questo topino del Sahara, può vivere fino a 18 minuti senza respirare ossigeno, recupera le sue ferite rapidamente, vive in colonie matriarcali rigidamente. Restituiamo un po' di potere alle donne, visto che se ne è parlato poco, sono d'accordo. Lui è un esempio di una colonia matriarcale. 100 esemplari maschili per uno esemplari femminili. La moglie di questo topino non conosce la menopausa. Ci piace o non ci piace, è fertile fino alla fine della vita. Questo topino è in grado di resistere a tutti i tipi di aggressioni, non sviluppa malattia diabetica e se consideriamo la qualità della vita è eccellente. Lui è in grado di compattare tutti gli acciacchi della vecchia in ultime settimane di vita. Dice io vado a morire, fra due settimane non ci sto più, mantenendo le sue prestazioni funzionali. Solo che non ha i capelli, si chiama eterocephalus glabber, ma poco conto. Io dico sempre calvi, non vi preoccupate perché c'è una notizia molto buona pure. Qual è? Che mentre un topo normale vive massimo due mesi in laboratorio, signore questo topino vive 32 anni, 16 volte in più. E' uno dei segreti perché c'ha molta più spermidina nel sangue rispetto ai comuni topi. Ed inoltre ha un sistema di attivazione, l'NRF2, che noi attiviamo quando prendiamo i polifenoli piuttosto che la curcumina o anche gli omega 3. Sono attivatori di questo sistema. L'estadenosilmedionina sposa molto bene, per esempio, l'astragalus. Qui gli estratti di astragalus riduce la velocità di accorciamento, attutisce in qualche modo il processo di accorciamento dei telomeri. E poi la classica estadenosilmedionina, la seconda cosa che fa dai gruppi metilici, grazie ad un'estadenosilmediltrasferase. Quindi qua entriamo nel metabolismo ormonale, nel metabolismo degli amminoacidi aromatici, parliamo quindi di dopa, dopamina, noradrenalina, adrenalina, perché la differenza, gente, tra la dopamina e la noradrenalina, alla fine è un gruppo metile in più in me. Cioè la noradrenalina e la adrenalina differiscono per un metile. Chi glielo dà il metile glielo dà esattamente la nostra estadenosilmedionina. E ci toglie un problema, perché le catecolammine, anche dopo che hanno funzionato, devono essere inattivate. Ed è meglio se vengono attivate per metilazione che non dalla monamminossidasi. Perché la monamminossidasi ci toglie la catecolammina, ma ci produce ammoniaca e acqua ossigenata. Gente, lo stesso ci ammazza, perché per ciascuna molecola di adrenalina produciamo ammoniaca, che è un neurotossico, e acqua ossigenata. E quindi entra la metionina come donatore del famoso ciclo dell'unità monocarboniosa, di quel maestro Miceli. Io non invado proprio questo campo, ma solamente per dire che c'è una parte un po' con egletta del metabolismo, qui, dell'estadenosilmedionina, che dice attenzione, quell'immondizia chiamata omocisteina, noi la sappiamo recuperare. Quindi non la massacriamo molto. Fa male quando è molto, ma l'estadenosilmedionina, che è un prodotto di direzione della same, entra in un circolo di reazioni che ci fanno generare la cisteina, e la cisteina viene il precursore del glutatione, capite? La cisteina viene in parte dall'omocisteina, perciò si chiama omocisteina, e ci fa fare glutatione. E ci fa fare una molecola molto importante che si chiama il solfuro di idrogeno, H2S. Esiste una nutraceutica, mi potete fare del dato, come faccio a aumentare i livelli di glutatione? Ne possiamo parlare. Ma la cosa interessante è che in questo metabolismo di recupero, di eliminazione dell'omocisteina, noi produciamo H2S. Il puzzo di uva marce, quello è l'H2S. Le terme di Saturno, vogliamo parlare del terme di Pozzuoli, quando andate là, ringiovanedite perlomeno di 10 anni, semplicemente a farlo passare sulla pelle. Qual è il motivo? Perché l'H2S è una molecola segnale. Ci sono milligrammi e milligrammi di H2S nel nostro cervello, e lavora insieme all'ossido nitrico, controllando la neurotrasmissione, il tono vascolare, l'infiammazione, il nostro sistema endocrino, probabilmente la funzione polmonare, e ad un'azione citoprotettiva. Questi sono appena appena un esempio dei meccanismi dell'idrogeno solfuro. Quindi quando vi pigliate l'estatenosinomitone, fate anche l'idrogeno solfuro. Farete qualche puzzetta, magari che non è gradevole, ma sta dicendo, io sto lavorando per mettermi a posto l'oste, il mio livello cerebrale di H2S. E pensate, questa è la molecola del futuro. È stata studiata uno meccanismo che si chiama l'animazione in uno stato di vita e sospesa. Cioè è una molecola che è stata testata per fare l'ibernazione in alternativa al congelamento. E ci sono già dei risultati incredibili, perché mette il nostro corpo in uno stato che non si sa se siete vivi o siete morti. Vi tirano pure l'H2S e le suscitate automaticamente. L'estatenosinomitone, genosinomitone, questo è lo stato dell'arte. Fate una foto, abbiamo chiuso. L'effetto ci sa molta cosa da dire. Molto importante, da qui da una settimana, sabato e domenica, a Roma ho organizzato un grosso convegno, un grosso piccolino, un simposio sulla medicina integrativa e medicina estetica. Avremo colleghi dal Brasile, dalla Francia e dal Giappone per avvicinare la distanza tra la medicina integrativa e la medicina estetica, spessa ridotta a tante punturine. Vi ringrazio molto, queste sono le condizioni. Grazie mille. Grazie. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie a tutti.